ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono massimiliano e voi siete su sub h2o altro video tecnico sono i video che vanno in onda il mercoledì e oggi ritorneremo quindi a parlare di subacquea altra breve premessa è quella che voglio dedicare alla pagina facebook dove siamo sempre molto attivi dove potete trovare tantissimi articoli veramente interessanti e dove potete se volete lasciare dei commenti per aiutarci sempre a migliorare detto questo iniziamo subito con l'argomento di oggi oggi parleremo del dan che cos'è il dan vi farò vedere come mi sono iscritto come ho già detto più volte la subacquea è sì una pratica molto divertente ma non è sola dai pericoli infatti è possibile incappare ad esempio in banalissimi otiti da barotrauma fino alla più pericolosa e di cui abbiamo già parlato malattia da decompressione sì è vero con molta prudenza e esperienza si possono evitare tantissimi di questi incidenti ma comunque è giusto sapere che ne siamo in ogni caso esposti con enorme disagio per la propria salute e spesso purtroppo anche per il proprio portafogli sì è vero se in italia la sanità è pubblica ed è comunque alla portata di tutti anche dal punto di vista economico purtroppo in altri stati quindi all'estero non è sempre così è sempre opportuno informarsi prima di andare ad esempio negli stati uniti la sanità non è pubblica e se ci troviamo a fare un'immersione proprio lì in caso di incidente oltre ad avere problemi dal punto di vista della salute li potremmo avere anche dal punto di vista economico certo è un po da sprovveduti andare in uno stato di questo tipo senza una vera e propria assicurazione motivo per cui se prenotate il vostro viaggio con i tour operator viene spesso proposta ma non è così scontato se invece a organizzare il viaggio siamo noi stessi o se andiamo in uno di questi stati semplicemente per fare delle immersioni in più sebbene moltissimi medici siano perfettamente preparati a fronteggiare determinate emergenze potrebbe comunque sempre far piacere avere l'aiuto di un medico che si occupa da anni di medicina iperbarica e che ha risolto magari dei problemi a subacquei durante un'immersione ma fortunatamente per ovviare a questi problemi di cui ho parlato precedentemente è nata la DAN ma che cos'è la DAN è l'acronimo di Divers Alert Network ed è una fondazione no profit che si occupa di prestare soccorso ai subacquei durante l'attività e che oltre a medici professionisti vanta anche di una rete di ricercatori per usufruire di questi servizi soprattutto all'estero bisogna stipulare una sorta di polizza assicurativa che però è valida in tutto il mondo se invece non abbiamo interesse a una sorta di assicurazione di questo tipo possiamo semplicemente iscriverci la cifra è veramente bassa se non sbaglio sono 25 euro all'anno e possiamo usufruire di un servizio non sulle emergenze di consulenza medica noi italiani possiamo aderire a DAN Europa che pensate è stata fondata addirittura da un medico italiano specializzato in medicina iperbarica con la passione per la subacquea il dottor Alessandro Marroni oltre a DAN Europa c'è DAN Amenerica DAN Giappone DAN Sudafrica DAN Asia sono inizialmente venuto a conoscenza di questa associazione perché era compresa era inclusa nel mio corso Open Water Diver in forma gratuita e quando ho ottenuto il brevetto lo stesso istruttore mi ha consigliato di stipulare questa polizza mi ha raccontato anche delle piccole esperienze che hanno avuto i suoi allievi con DAN e anche altri amici subacquei che hanno stipulato questa polizza ovviamente erano tutte più che positive quindi sembra una cosa che funzioni efficacemente motivo per cui ho cercato di capirci di più facendo delle ricerche su internet e pare che DAN possa sfruttare delle proprie centrali di allarme che sono presenti un po' su tutto il territorio ed inoltre può appoggiarsi a delle strutture convenzionate e a dei specialisti medici che aderiscono a questa iniziativa in Italia mi diceva il mio struttore è possibile avere una visita specialistica in ogni regione comunque in ogni caso verificate per bene inizialmente non volevo fare un video riguardante questo argomento però documentandomi su internet attraverso il sito web di questa associazione ho potuto leggere la loro mission che mi sono sentito di abbracciare e che mi ha portato a condividerlo attraverso un video perché infatti stipulando un'assicurazione con loro ma facendo anche un'iscrizione a questa fondazione non solo avremo un beneficio per noi stessi ma comunque potremmo dare supporto alla ricerca sulla medicina iperbarica e daremo anche supporto a questa fondazione che organizza sempre più spesso dei corsi di aggiornamento e di divulgazione utili per prevenire determinate situazioni di pericolo e che sono aperte praticamente a tutti i subacquei quindi supporto per subacquei corsi di aggiornamento per prevenire incidenti che quest'ultimi possono avere e lavoro di ricerca sulla medicina iperbarica beh mi sembrano tre buone ragioni per aderire motivo per cui vi lascio il link qui sotto in descrizione così anche voi potete cercare e ottenere informazioni in più io personalmente ho dato un'occhiata anche ai progetti di ricerca su cui stanno lavorando attualmente contiene anche un database delle domande più comuni che i pazienti rivolgono ai medici dan ma come ci si scrive e quanto costa lo vediamo subito ci trasferiamo al computer ma faccio una premessa cioè quella che è necessario per l'iscrizione aver ottenuto il brevetto da subacqueo allora eccoci qui come dicevo prima su internet quindi andiamo pure su google e digitiamo dan vedete che il primo sito che compare è proprio quello di dan europe che è quello a cui noi italiani possiamo fare riferimento a questo punto basta cliccare e già qui comparirà un po l'home page del sito clicchiamo pure su iscrizione e qui abbiamo tutte le descrizioni di quello che ci può interessare vediamo cosa otteniamo con l'iscrizione è un po quello che ho detto precedentemente nel video quindi lot line di emergenza 24 ore su 24 7 giorni su 7 per emergenze mediche sia subacquee che non subacquee consulenza medica non urgente anche quello quindi offrono anche una consulenza legale non urgente degli sconti particolari delle opportunità formative e poi quello di cui parlavo anche nel video è la possibilità di stipulare una una sorta di assicurazione ovviamente prima devi essere iscritto per tutte queste cose però il requisito è quello di avere un brevetto da subacqueo comunque poi potete anche man mano voi stessi guardare guardare quello che vi interessa a vedere cercare di estrapolare delle informazioni in più comunque è tutto scritto nel sito e poi semplicissimo qui c'è il tastino con su scritto iscriviti al dan a questo punto si va avanti io personalmente per l'iscrizione ho fatto così poi ovviamente io metto anche subacqueo sportivo allora a quel punto lì ti fanno registrare e via dicendo e dopo alla fine si può pagare quella quota di cui vi parlavo vediamo se anche qui c'è scritto qualcosa sì solo soli 25 euro all'anno quindi non costa neanche tanto invece guardiamo adesso i piani assicurativi che era un'altra cosa di cui parlavo sport member assicurazione allievi club member quello che interessa a noi e sport member quindi selezioniamo pure l'italia e qui abbiamo i vari piani assicurativi abbiamo quello bronze per immersioni ricreative in aria compressa in nitrox fino a 40 metri abbiamo pure quello silver include anche l'immersione tecnica però vabbè non so se possa interessare e poi quella la gold che ha dei massimali come vedete più elevati qui è scritto sono fatti anche dei paragoni tra i vari piani assicurativi io dico che un po a tutti potrebbe bastare quello bronze insomma poi inutile che ve li faccio vedere io adesso potete vederli voi con calma poi si può anche aggiungere delle 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 parti diciamo delle delle cose accessorie però diciamo oltre la subacquea ricreativa ecco va bene comunque questo è il sito www.dannyeurope.org ovviamente ve lo lascerò in descrizione poi semplicemente selezionando il piano assicurativo che ci serve vedete io vado su italia faccio così qua quelli le parti accessorie e via dicendo poi ti calcolo il totale e via dicendo facendo iscriviti rinnova si iscrive si rinnova tutto molto semplice come avete visto diciamo questa parte a computer è finita avete visto è abbastanza semplice fare l'iscrizione e stipulare una polizza spero che questo video vi sia stato utile se così è stato vi invito a mettere un bel mi piace a iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio a seguirmi sul profilo instagram e a seguire anche la pagina facebook e a visionare anche la pagina facebook dove siamo sempre molto attivi ciao ciao